Siamo con il consigliere comunale uscente di La Terza, Agostino Perrone, detto Costantino, dicevo consigliere comunale uscente, ma ricandidato al Consiglio Comunale e anche al Consiglio della Regione Puglia con Fratelli d'Italia. Stiamo facendo un po' il punto su questi nove anni di amministrazione di centro-sinistra. Qui ci troviamo in una splendida location, così come aspetto, la pineta comunale di La Terza, ma una realtà che è versa in un degrado assoluto. Ma di questo abbiamo già parlato in un precedente servizio. Ma lo stare qui, in questa pineta, mi fa pensare, mi invita a fare un po' il punto sui lavori pubblici. Lei, Costantino, in molte occasioni ha sottolineato il fatto che tante opere pubbliche sono così, abbandonate, non sono state completate o mai iniziate. In due mandati gestiti dall'Opane posso dire che non c'è un'opera pubblica consegnata, diciamo, finita. Alla collettività? Alla collettività. C'è, posso citare qualcuno. Noi abbiamo, diciamo, ampliato il centro di orno, dove questo centro di orno, per chiudere la faccenda, c'è stato un contenzioso che abbiamo, oltre all'investimento, abbiamo dato 75 mila euro in più. Poi c'è stata anche la riqualificazione di una zona del vecchio campo sportivo, dove lì, con l'impresa appaldatrice, aveva chiesto fino a un milione e 300 mila euro, in più dei 670 iniziali. Poi si è trovata una soluzione, un accordo, forse una conciliazione e comunque ci è costato altri 70-75 mila euro, circa, ed è la seconda opera pubblica. Poi c'è stata un'altra opera pubblica, che era composta da tre siti, il parcheggio sotto la casa comunale, il Cambergrand, l'Oisilipo e la masseria Gancioli, dove qui ci sono stati dei finanziamenti per riqualificarli. Lì c'è stato il primo contenzioso, tra la prima detta appaldatrice, trasferendola alla seconda di circa 130 mila euro. La seconda detta, poi c'è un altro contenzioso che hanno consegnato i lavori senza aver previsto 40 mila euro di allaccio della luce alla masseria Gancioli e l'impianto, diciamo, edrico dell'Oisilipo non è stato fatto, cioè non avevano previsto questo impianto. Ecco, Costantino, ma evidentemente cosa c'è una macchina amministrativa, cosa c'è stato, una macchina amministrativa che non riesce a funzionare? Perché quando, come mi sta dicendo lì, tante opere pubbliche si bloccano, non vedono la luce, evidentemente c'è questo meccanismo in cui qualcosa si inceppa. Beh, io direi che, devo dire la verità, seguendo perché sono stato consigliere d'opposizione sia nel primo mandato all'Opane che nel secondo, ho seguito tutto, ho fatto tanti accessi agli atti, tante verifiche. Posso dire che lui ha messo la persona sbagliata nel posto sbagliato, nel senso che si è fidato oppure avevano la persona che potevano gestire loro e hanno sbagliato tutti questi progetti.